No, no, no... Salve! Oh! Senti, Red, lo so che abbiamo avuto delle divergenze, ma vengo in pace! Vai! Non voglio vedere la tua faccia più di quanto tu, non voglio vedere la mia! Siamo tutti in pericolo! Sì, grazie a voi! No, c'è una tregua! Non è così che funzionano le tregue? Ti infretta quello che devi dire e poi vattene! Red, noi abbiamo scoperto che c'è una terza isola! Quelli vogliono distruggerci tutti! Una terza isola? Dammi un buon motivo per cui dovrei crederti! Ti mostro la prova, ma io al Team Six! Ma che... Ehi, ehi, ehi! Piano, piano! Fermatevi! Ma dai! Grazie a tutti.